Adesso è arrivata anche la conferma ufficiale da parte del CT della Bosnia, Dzeko è ad un passo dal trasferimento all'Inter. Buongiorno ragazzi, sono Simonsigno Gialdorosso ed oggi voglio parlarvi di questa trattativa che si appresta all'andare in porto. Ma prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace e un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram simonsigno-gialdorosso. Diciamo che me lo aspettavo senza alcun dubbio perché se ne parlava ormai da mesi senza aver ricevuto una smentita neanche di cosecca, una smentita generale anche superficiale da parte della Roma e di Dzeko. Quindi ormai si sapeva e dopo l'arrivo di Conte sulla panchia nerazzurra il bosniaco era diventato di fatto virtualmente un nuovo giocatore nerazzurro. Oggi il CT della Bosnia ha detto che Dzeko raggiungerà in ritardo il ritiro perché a Milano per trattare con i dirigenti nerazzurri. Quindi la Roma lo ha praticamente ceduto. Io non l'avrei mai venduto, sapere benissimo come la pensi riguardo a Edin. Per di più non l'avrei mai dato all'Inter, ad una diretta concorrente, almeno sulla carta, che si sta rinforzando e che è in putente ascesa. Perché in questo momento per me anche la Juve teme l'Inter, così come tutte le scuole italiane. E la Roma dimostra ancora una volta che non vuole assolutamente competere per i vertici. Perché se vedi che l'Inter ha appena preso Conte e dovrebbe fare un supermercato che potrebbe comprendere gli acquisti di Chiesa, Barella, Lukaku e anche altri giocatori top, oltre Godin che è stato di fatto preso, non vi puoi dare uno dei giocatori più forti che l'anno scorso si è attaccinato in Champions League. In semifinale, ovviamente, che l'anno prima era capocannoniere del campionato, che quest'anno comunque i suoi gol, pochi, però i suoi gol li ha fatti. E nei momenti di difficoltà, spesso e volentieri, ha aiutato la squadra. Per me non lo puoi assolutamente vendere. Per di più, per una cifra anche abbastanza bassa, 12-13 milioni per me sono pochi in confronto a quello che è il reale valore di Dzeko. Almeno per me. Io, sotto i 20 milioni, non sarei mai sceso, neanche per l'estero. E attenzione, perché le squadre fuori dall'Italia che lo volevano c'erano. Si parla di West Ham, con cui è amico, ovviamente, di Pellegrini, ma anche di Zabaleta, di molti giocatori del West Ham, che è praticamente diventata una colonia del City negli ultimi anni. Del Fenerbahce, si diceva che lui era addirittura a Istanbul per trattare con i turchi. Del Southampton, del Cardiff, di tante squadre inglesi. E lui, qualche mese fa, se vi ricordate, affermò proprio che sarebbe voluto tornare in Inghilterra prima di chiudere la carriera in America. Se proprio la Roma non avessi dovuto cedere, io avrei preferito, io, e penso di parlare a nome di tutto il popolo romanista all'estero. All'Inter, proprio no. Mi dispiace, ma è ancora una scelta sbagliata da parte della nostra società assurda. Assurda, ragazzi, ci pensiamo bene. Qual'altra squadra avrebbe ceduto il suo attaccante titolare a una diretta concorrente? L'Inter, se avessi avuto Geco, lo avrebbe mai dato alla Roma? Per me no. Il Napoli, per me no. Assolutamente. Il Napoli, ragazzi, gli avevamo chiesto Giaccherini a gennaio. Hanno sparato 20 milioni, quando Giaccherini avrà fatto tre presenze quell'anno con Sarri. Questo vi fa capire quanto le altre squadre non vogliono rinforzare le dirette concorrenti. Politica, a mio avviso, giustissima. Mentre la Roma sia praticamente il discount delle big europee, ma soprattutto anche italiane. Vi ringrazio per la visione e vi ricordo che potete lasciare un mi piace in commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.